Se tu guardi intorno a te, tu non hai da scegliere, quello che tu cerchi qui, non cambiare mai, io sarò la musica, l'avventura splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non dà la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me, e sarà bellissima, intelligentissima, scelta zegatissima, come meglio non si può. Forse era già scritto tal esterno, Che finisse la storia tra noi Oramai non è rimasto niente Di silenzio e disceso tra noi Va, riscrivi il tuo destino senza me, io non ci sarò Va, in cerca di un amore vero che ti illuminerà Lascia allontanare questo addio Con i suoi ricordi al vento Non portarti mai Non portarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole Ti riscalderà E l'amore va E l'amore va Non ci sono più lacrime e rimpianti Era giusto lasciarci così È già terminato il nostro tempo Non c'è niente che ci tenga qui Va, riscrivi il tuo destino senza me, io non ci sarò Va, in cerca di un amore vero che ti illuminerà Lascia allontanare questo addio Con i suoi ricordi al vento Non portarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole Ti riscalderà E l'amore va Lascia allontanare questo addio Lascia allontanare questo addio Con i suoi ricordi al vento Non portarti mai Mettiti alle spalle tutto quanto Fino a che di nuovo il sole Ti riscalderà E l'amore va E l'amore va E l'amore va L'amore va, caro zio, dove va? Dove va, scusa che vado a vedere Dove va, amore Spero, torni, mi raccomando Noi siamo un po' preoccupati Prego, torni Anche perché ho un anniversario di matrimonio dei miei genitori Stia qui Caro zio, buon mercoledì Buon mercoledì Buon mercoledì a lei Buon mercoledì a lei Buon mercoledì a voi tutti Allora la nostra Ricca e Pepe Ritorna, Ricca, ritorna Ecco, Ricca e Pepe e Maurizio Cuzzinati Buon mercoledì L'apertura di questo nostro mercoledì Oggi giornata anche con il sole Insomma, almeno meteorologicamente parlando Insomma, è buona la giornata Per il resto, siamo in questo contesto Lo sappiamo, è inutile Non è il nostro compito Sapete che in quest'ora noi cerchiamo di creare Una piccola bolla dove lasciamo fuori i problemi che ci sono per tutto il resto della giornata Allora, caro zio, siamo al 28 di ottobre Quindi abbiamo l'almanacco come sempre Fina sera Fina sera Santissimi Giuda e Scariotone Ecco E... Santissimi Santissimi Simona e Giuda Allora, che detto ha, caro zio? Come hai detto? Le chiacchiere non fan farina Le chiacchiere non fan farina No, no Però la farina fa le chiacchiere Intesi come i galani Vabbè, ma questa è un'altra cosa di carnevale Ne parleremo Per San Simone il galletto si fa cappone, caro zio Vabbè, quindi Ricordiamo che nel 1886 Eccolo qua Venne inaugurata la Statua della Libertà Quindi un po' di tempo fa E... E poi, caro zio Nel 1958 Oggi Venne... Prese, come posso dire Il suo ruolo di pontefice Importante Giovanni Scusate Papa Giovanni Ventitresimo Il Papa Buono Lo ricordiamo Proprio Fu nominato il 28 ottobre del 1958 Va bene, insomma Queste cose qua che io prendo dal nostro almanacco Che ringrazio per l'informazione E a proposito di informazione con noi Caro zio È pronto? Non è un'informazione Ma l'ho fatto La prima informazione Prima del TG Flash È che oggi con noi C'è il Capitan Riccardo L'unico con la sigla Ma per fortuna che c'è il Riccardo Che non sono Non è di grande compagnia Ma il più simpatico che ci sia Eccolo Eccomi qua, buongiorno a tutti Com'è? Bene Tutto a posto, tutto a posto E lei mascherato, l'uomo mascherato E lei E lei E lei E lei Devo prendere i sacri Quindi io I piatti Oppure la Il tamburello Cos'era? Quello con Ecco, per accompagnare questa tarantella Che introduce la sigla Dell'unico regista del mondo Che è il nostro Capitan Riccardo Allora, prima di passare al TG Flash Visto che avete già mandato Un po' di risposte Ricordo che c'è il colmo Del nostro ottico Quindi Dedicato a Ottica Luxe Che appronta una bellissima promozione Spero già da domani di parlarvene Quattro le parole per vincere un CD musicale Potete telefonare allo zio Oppure mandare un WhatsApp E poi Sapete che Va in onda il menu Di Viva la musica Mandateci le foto di quello che preparate E anche i compleanni Gli anniversari Andiamo con TG Flash Poi torniamo in studio Prego Grazie 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 al nostro Fabio Carraro TG Veneto News 24 Lo sapete Più tardi Verso le 11.45 Avremo un nuovo TG Flash Vediamo se ci sono altre notizie Aggiornamenti Alle 12.30 Andrà in onda Il TG Che sarà caratterizzato Dalla conferenza del governatore Insomma E altre cose caro zio Ma noi ritorniamo sul nostro Eh Cadavere Eh Sul nostro cadavere Noi siamo messi bene Da oggi vedrà che menù Anche oggi La strabilieremo Non so se esiste questa parola Ma non importa Come ieri Come ieri Come ieri che addirittura Casarossi le ha mandato Eh questa cosa straordinaria Si sono mangiato di loro Si sono mangiato di loro Eh si sono mangiato di loro Ma però hanno fatto un pensiero a lei E non è poco Non è poco Che canzone andiamo a sentire caro zio? Strada facendo Strada facendo I rodigini Ah Claudio Baglioni Nella loro versione Arriva strada Facendo Sulle mani così Anche in fondo Abbiamo bisogno delle vostre mani Così Io ed i miei occhi scuri siamo Diventati grandi insieme Con l'anima smaniosa chiedere Di un posto che non c'è Tra mille mattini freschi di biciclette Mille più tramonti dietro i fili del tram Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me Io e le mie tante sere chiuse Come chiudere un ombrello Col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro a un senso di inutilità Che fragile e violento mi son detto tu vedrai 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 L'amore vedrai La chitarra di Luca Pergamini Dai le mani Borghetto E una canzone neanche questa potrà mai cambiare la vita Ma che cos'è che ci fa andare avanti e dire che non è finita Cos'è che ci spezza il cuore tra canzoni e amore Che ci fa cantare e amare sempre più Perché domani sia migliore perché domani Strada facendo vedrai Che non sei più da solo Strada facendo troverai Un gancio in mezzo al cielo Strada facendo vedrai Che non sei più da solo Strada facendo vedrai 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 Strada facendo Le voci dei rodigini Voglio sentire un urlo Forte Bravo bravi grandi rodigini Quando cantano così All'inizio mi era un po' preoccupato Caro zio perché Francesco ha detto Tu hai in alto le mani E ho detto E' una rapina Stavo scherzando Insomma devo dire Bravissimi Quando loro cantano così Coralmente Sono veramente unici Allora intanto grazie Perché vi sentiamo So che insomma Questo nostro cambiamento Di orario da maggio Ha un po' scombussolato Le vite anche di molti di voi Che ci tengono a seguirci Noi non possiamo che ringraziarvi Perché insomma E con un po' di affanno Stiamo recuperando Un po' tutto il nostro pubblico E vi ringraziamo Anche perché spesso Molti di voi Sono i nostri ambasciatori Cioè invitano amiche ed amici Che sanno magari Che sono a casa In questi orari Casalinghe Piuttosto che pensionati O altro E quindi non possiamo Che ringraziarvi E proprio per questo Vi invitiamo a partecipare Al nostro quiz Caro zio Il colmo per un Ottico Ottico Eh sì perché Occhio non vede Vuole non vuole Ecco però è più di quattro parole Quindi questa non è la risposta State tranquilli Allora vediamo un po' Cosa ci hanno scritto Caro zio Intanto Giovanna Di Rovigo Non vederci un tumo Eh vabbè Quindi sarebbe in effetti Il colmo Poi vediamo un po' Dunque 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 Colmo per un ottico Alessandro Condesi Leggere senza Occhiali Però sono tre parole Sono quattro le risposte Vediamo poi se abbiamo altre risposte Il colmo Essere sempre in vista Il nostro Umberto Che saluta Capitano Riccardo Un'altra cosa Molto carina Sapete che noi Eccolo Sapete che siamo Molto affezionati I nostri registi Capitano Riccardo Per anni interi Ci ha seguito Quasi quotidianamente Caro zio Quindi insomma C'è un rapporto Anche con il nostro pubblico Devo dire di affetto E quindi La salutano Caro capitano E credo faccia piacere Anche se anche gli altri Come Mattia E altri vengono salutati E il colmo Vedere sempre il doppio Questa è nuova Se non sbaglio Non è male Anche questa Cioè nel senso Che è originale Teresa da Caneva Però alla fine Scopriremo Se qualcuno Ha indovinato Allora per tutti voi Intanto Mandiamo Intanto ricordo Compleanno anniversario Mandate le foto Se sono per sabato E domenica Entro domani Per sabato E massimo venerdì mattina Per domenica Caro zio Che musica facciamo sentire? Una bella canzone Con delle belle carezze La carezza della sera? L'orchestra Pagotti Ah Sentiamo Prego Federica in coppia Prima con Michael E poi con Alex Prima carezze E poi viso d'Angelo Il Val Serrento A chi regalerò La solitudine Che mai lasciato tu In fondo all'anima Dimenticarti vorrei Ma ho nostalgia Di te Passano gli anni Ma tu Tu sei qui Sempre qui Nel mio cuore Quei baci Chili Di ventica E quel profumo Di resina E le carezze D'amor Dentro alla pireta Stesi in mezzo Stesi in mezzo Al filo Quei baci Chili Dimentica Quando Nel buio Di un cinema Con le carezze D'amor Mi bagnavi Mi bagnavi Il fiore Che donavo A te Mi bagnavi Il fiore Che donavo A te E conteniamoci Le notte Della tradizione Il viso d'Angelo Nei sogni C'è sempre La tua immagine Mi appari Come un angelo Che scende giù Dal cielo Quando ti avrò Sempre vicino Guardandoti negli occhi Ti chiamerò Così Il viso d'Angelo Il viso d'Angelo Capelli d'oro Adorabile Dolce tesoro Sei l'immagine Sei l'immagine Dell'amore Tu sei la più bella Per me Con quel tuo bel viso Con quel tuo bel viso D'Angelo Con quel tuo bel viso D'Angelo Le belle melodie del passato Per voi Le nostre voci Caro zio Si rimane così Un po' a bocca aperta Questi virtuosismi vocali Sempre Grandi Grandi La grande organizzazione Bagutti Allora Caro zio Oggi il 28 Ci sono oltre all'anniversario Di matrimonio Di miei genitori Che ringrazio Anzi i genitori Capitano Riccardo Che subito Sono stati gentilissimi Da mandare un messaggio Poi li vedremo Ho fatto una foto fresca Stamattina E poi li vediamo Anche loro Quando si sono sposati Personaggi famosi di oggi Piace a tutti Uomini Donne Grandi Vicini Insomma La vediamo sempre andare In giro Appunto Nei negozi Di intimo Che fa reclame Una nota marca Insomma con la sua simpatia Qua in Italia Stiamo scherzando Giulia Robert 53 anni Auguroni Sei veramente Oltre ad essere Una bella donna Ma una bravissima attrice Che ha saputo interpretare Mille ruoli diversi Poi Caro zio Lui Si chiama Joachim Fenix Non so se qualcuno Prima del Covid L'anno scorso È andato a vedere Il film Joker Che ha vinto l'Oscar Questo attore Ha fatto una parte Devo dire Quasi incredibile Pensare Che un attore Riesca A riprodurre Un personaggio Così Ecco Quindi Veramente Un grande talento 46 anni Auguroni Joachim Fenix E adesso Un po' di musica Caro zio Con lui Uno dei cantanti Più amati Non solo in Italia Ma anche del mondo Un bel amaro Un bel amaro Ramazzotti Che passa tutto Eros Ramazzotti 57 anni Prego Ecco Più bella cosa Non c'è Più bella cosa Di te Auguri Più bella cosa Non c'è Più bella cosa Di te Auguroni Eros Ramazzotti Lui Diego Bianchi Zorro Non so se qualcuno Guarda la trasmissione Che so essere Molto seguita Ha avuto I complimenti Anche dal presidente La repubblica Per un modo Di fare televisione Devo dire Molto particolare Molto libero 51 anni La trasmissione Si chiama Propaganda Live Sulla 7 Se vi capita Ecco Complimenti Credo che sia Una delle trasmissioni Più nuove Che ci siano Lui Bill Gates Ne ha parlato tanto Di sto signore E lui Vaccino E non il vaccino Questa cosa qua Sta di fatto Che è l'inventore Di Microsoft Uno degli uomini Sicuramente Più potenti Al mondo Parlando finanziariamente 65 anni E poi Finiamo con Ben Harbert Caro zio Lui è Insomma Un uomo È un cantante Ma anche Insomma Mi pare Suoli Tromba Qualcosa Al sassofono Ecco Ecco La tromba E anche Il sassofono Mi pare Auguroni Sentiamolo Ecco Vabbè Auguri Insomma 51 anni È un po' Ho una nicchia Un'annuccia Ben Harper Anche se è famoso In tutto il mondo Ok amici Allora Video del giorno Con Soniflex Fabbrica Materassi Mi ci butto Mi ricordo La pubblicità Dei bambini Che era una marca Famosissima Ecco Però Là si facevano Standard I materassi Erano tutti uguali Oggi invece Il mondo è andato avanti Lo studio di nuovi materiali E soprattutto L'artigianalità Di Soniflex Che si fabbrica Ma fanno sempre I materassi Su La richiesta Del cliente Quindi Conoscono Tutte le varie esigenze Sono Lo ricordiamo sempre Sono una fabbrica Di materassi Attenzione Non un negozio Una fabbrica Senza nulla Togliere i negozi Ma capite che Andate direttamente A comprare Dove si fabbricano I materassi È come andare A prendere le uova Dal contadino Caro zio O latte Dal contadino Insomma È chiaro Che si va alla fonte Si ha la massima Qualità E si risparmia E qui In qualche modo Stiamo parlando Dello stessa cosa Non hanno più Lo showroom A Santa Maria di Sala Hanno spostato Tutto in via Kennedy 1 Perché Avendo una grandissima Mostra lì Poi le persone Andavano sempre lì Andavano prima Da una parte Poi andavano lì Quindi A questo punto Solo via Kennedy 1 A 90 Padovana Ecco Materassi memory Materassi a molle Sono diversi In base a come dormiamo Potete provarli Vedrete poi Nello spot Ci sono materassi Tutti i tipi Reti ortopediche E anche Poltrone relax Anche le reti ortopediche Con il telecomando Per alzare La parte della schiena Delle gambe E tanto altro Insomma È un mondo Tutto da scoprire Con Aldo e Fabio Che sono i due fondatori Che saluto e abbraccio E che vi aspettano Veramente con simpatia Perché vedrete Che persone molto affabili Vi sentirete un po' Come in famiglia E avete l'opportunità Di risparmiare E avere un prodotto Di primissima qualità Video del giorno Con Sony Flex Caro zio Banana Banana Republic Grande successo Di De Gregori Cantata da I suvenire Eccola per voi Dai Raggiù nel paese Dei trappici Dove il sole Più sole Che qua Sotto l'ombra Degli alberi Esautici Non ti immagini Che caldo Che fa Gli americani Che spatriamo Si ritrovano Tutti Quaggiù Alle spalle Una storia Impossibile E un amore Che non conta più E poi Verso a sera Li vedi Tutti a caccia Una donna E via E attraversano La notte A piedi Per trattare La malinconia Ti spendono Più di una lacrima Sul bicchiere Di vino Di rum E piangendo Gli viene Preparire Ballo anch'io Se balli tu Preparire Vai Così Così Giù nel paese Dei trapici Certe volte Fa freddo Anche là Per un cuore Che siamo Malato Dal paese Della libertà Gli americani Che spatriano Fanno il verso Alla nostalzia Raccontandosi Raccontandosi Senza Creversi Mille volte La stessa Bugia E poi Verso a sera Li vedi Tutti a caccia Una donna E via E attraversano La notte A piedi Per Troffare La malinconia E spendono Più Di una lacrima Sui bicchiere Di vino E di rum E piangendo Gli viene Da ridere Ballo anch'io Se balli tu Un gelsin Mi Hai In Unapan La Me Un Sui Un Cob Un Ne Tu Signori per voi, Andrea! Grazie! Trent'anni fa lavoravamo così e oggi siamo cresciuti. Ma se servono misure speciali, siamo ancora artigiani. Perché la nostra rimane una grande famiglia, fatta anche di migliaia di clienti soddisfatti e di fiducia. Ci sono i memori di nuova generazione e i materassi a molle insaccati, sempre a prezzi di fabbrica. Le reti ortopediche e le poltrone relax. Soniflex, fabbrica e showroom in via Kenne di 1 a 90 Padovana e a Santa Maria di Sala, Venezia. Soniflex, da 30 anni ci prendiamo cura di voi. Bene, eccoci qua, ancora buon mercoledì, amiche ed amici di Viva la Musica. Caro zio, allora, ricordiamo che abbiamo il colmo. Tra poco vedremo i vostri buongiorno. Il colmo, vediamo anche qualche vostra risposta. Intanto ringraziamo Francesco Di Bassano. Un abbraccio, grazie Francesco. Allora, intanto non distinguere le sillabe di Cerenzo, proprio facendo, credo, così, riferimento a questo nostro ottico, un po' paccioccone, ecco, che si sta facendo il famoso esame, mostrandovi le lettere che si rimpiccioliscono dalle più grandi alle più piccole. Oppure Adriana, che anche lei, credo, si ispiri alle lettere, perché dice non conoscere l'alfabeto. Ecco, poi la nostra Iole, caro zio, che scrive misurare la vista col metro, ma sono cinque parole, Iole, e vendere gli occhiali sbagliati, Giancarla, oppure la nostra Giovanni Duecarrare, avere la vista annebbiata. E, beh, insomma, sono tutti colmi che potrebbero starci, caro zio. Allora, facciamo così, aspettiamo naturalmente le vostre risposte. Bravi, comunque, potete sia chiamare lo zio 0444 966274. Il numero serve anche per fare le richieste, se volete vedere qualche canzone, o nella trasmissione di oggi, o nei prossimi giorni, cerchiamo di accontentarvi. E il 392-666-0099 per le foto, i whatsapp, la foto di quello che state preparando da mangiare per fare il menù di oggi, di Viva la Musica, e tanto altro. Bella canzone che arriva, caro zio. Bella canzone, con la solerona, con il giorno più importante. Ah sì, altro che. Appena ti ho visto, l'ho capito, che eri tu, eri l'uomo per me. E quando un bel di mi hai domandato, mi vuoi sposare, sei tu il mio grande amore. Senza neanche pensarci un solo istante, con un filo di voce ho detto sì. E' arrivato quel giorno il più importante, un viaggio che partirà da qui. Questo è il giorno più importante, fra un momento ti vedrò. Ho con te un appuntamento, seguo al mio fianco, nel giorno dell'amore. Bianca come il bianco sfino, delicata come un fior. Fresca come un bel mattino, al primo sole che illumina ogni cuore. Ritornano i ricordi di bambina, quando nell'aria sentivo arriva. Dal campanile di una chiesa alpina, un suono dolce, un suono di campana. E risento ancora quel richiamo, il cuore che vibra come all'or. Una gioia mi avvolge piano piano, saverai il sogno mio d'amor. Questo è il giorno più importante, fra un momento ti vedrò. Ho con te un appuntamento, seguo al mio fianco, nel giorno dell'amore. Bianca come il bianco sfino, delicata come un fior. Fresca come un bel mattino, al primo sole che illumina ogni cuore. di un appuntamento, al primo sole che illumina ogni cuore. Fresca come un bel mattino, fresca come un bel mattino, al primo sole che illumina ogni cuore. Stanno suonando le campane, suonano a festa, nel giorno dell'amore. Eccoci, eccoci qua. Gran bella canzone, Laura e Sole Luna, caro zio, il giorno più importante. So che lei ha avuto qualche richiesta. Sì, la nostra Silvia di Castelfranco, Veneto. Lei non è vicino a casa sua, caro zio, territorio suo. Zona mia, che manda un bel saluto a Simonetta Belive e domani ci sarà la sua canzone. Ah, bene, bene, bene. Tutto appunto per te. Certo. E poi la nostra Maria di Marghera. Come sta, come sta Maria? Sta benissimo. Oh, questo è importante. E fa gli auguri ai suoi lettori. Ah, grazie Maria, gentilissimi. Vi mostro così, dai, anche, è un po' un conflitto di interessi, perché sapete che le foto le mostriamo dopo le 12, ma, insomma, intanto mostro la foto di 59 anni fa, una, come si, caro zio, di Antonietta e Claudio. Eccoli qua, quindi, auguroni, auguroni, veramente, di cuore, perché c'è. Non li riconosci, perché mi sono passati un po' di anni. Antonietta e Claudio, che poi vedremo più tardi, insomma, hanno più di 80 fischi anni, ma, insomma, sono ancora là, in grande forma, quindi, con loro attacchiai, come tutti, ci mancherebbe. Allora, caro capitano, sono le 11.40, io direi che è il caso di buttare un occhio al Gambaro a Cadone, che se lei è d'accordo, perché sapete che il Gambaro ha dovuto bloccare gli suoi appuntamenti serali, perché è alle 18, però adesso si chiude, ma rimangono, naturalmente, gli appuntamenti che ci sono in fascia, invece, pranzo. E siccome il Gambaro ha grandissimo spazio, i tavoli sono distanziati, ci sono tutte le norme, garantite nel rispetto della sicurezza assoluta, naturalmente, che richiede la legge, quindi si può passare una bella domenica, pranzo, oppure vedremo anche il 15 novembre. In questo caso vi ricordiamo, quindi, che domenica prossima, in compagnia della musica e la voce di Enrico Marchiante, un bel menù, caro zio, dedicato alle zucche. Insomma, questo è il periodo. Le zucche. Eh sì, e viva le zucche, vedete, pappardella con crema di zucca e salamella, spezzatino di manzo con zucca cubettata, funghi e polenta al cucchiaio, patate e rosmarino, dolce della casa, vino, spumante e caffè, 25 euro. Quindi è chiaro che c'è l'obbligo della mascherina, portate la vostra mascherina. E ricordiamo anche il 15 novembre la festa del bollito, dove... Buono. Ecco, 22 euro e 50 in più, direi proprio una sciocchezza, dove c'è gli antipasti, primo, secondo, dedicato al bollito, i contorni e tutto il resto. Ecco, 27 euro e 50. La musica sarà gestita dal DJ Renato, che però porterà degli ospiti, Roberta Ben, Daniele Marcomini, Maurizio Benedetto e Marco Diagala, che canteranno, saranno presenti fisicamente e canteranno una canzone. Quindi prenotatevi per tempo. Allora, facciamo così, caro zio, facciamo una bella canzone e poi, subito dopo il TG Flash, avremo il buongiorno, siamo un po' in ritardo oggi, ma li vedremo. Intanto aspetto le foto di quello che state preparando da mangiare per fare il menu di Viva la Musica. Dai, forza, Anna Maria. Viva la musica. Ama, devi farlo ancora, ama, anche se ti hanno deluso, non vuol darti indietro mai. Ama, fallo sempre intensamente, con il corpo e con la mente, non tirarti indietro mai. E' tutto quello che serve, per riscoprire quello che tu sei. E' questo quello che basta, per dare un vero senso a tutto quanto, respira il tuo sorriso fino in fondo. Ama, e accendi la tua vita ancora, ama, come se fosse la tua prima volta, lascia che sia felicità. Ama, risvegli in te una nuova primavera, e lasciati abbracciare dal calore che ti dà, non avere dubbi mai l'ora, ama. Ama, 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 non puoi farne a meno, ama, usa tutta la tua forza, come non hai fatto mai. Ama, devi farlo veramente, fino a che tu avrai respiro, fino all'ultima poesia. E' tutto quello che serve, per riscoprire quello che tu sei. E' questo quello che basta, per dare un vero senso a tutto quanto, respira il tuo sorriso fino in fondo. Ama, e accendi la tua vita ancora, ama, come se fosse la tua prima volta, lascia che sia felicità. Ama, caro zio, con questi bei bambini, nipoti di tanti nostri amici che ci seguono. Anna Maria Allegretti, con la sua bellezza, la sua bella voce, la sua positività. Forza che qui il menù divina la musica un po' poverino oggi, aspetto vostre pietanze, ma intanto andiamo a sentire le anticipazioni, caro zio, e il nuovo TG Flash. Prego. Bene, eccoci qua, caro capitano Riccardo, che è con noi, lo risalutiamo, per chi si fosse solo ora, si è giudato. Eccolo qua, lo sentiamo pronto con grazie Alma, anche per, insomma, questo bel pensiero. Allora, dunque, 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 caro zio, direi di andare subito con il buongiorno, che poi abbiamo un bel video del giorno. Prego, Riccardo. La cosa più bella, il risveglio, la luce più luminosa, la speranza, il regalo più prezioso della vita, la gioia più grande, vivere. Buon mercoledì, grazie Umberto. Grazie anche a Francesco, il primo saluto del mattino si dà alle persone speciali. Buongiorno a tutti, nessuno escluso. E la mia amica Rox, un bacio, però augurate una buona giornata, che io giro anche a voi e giro anche a lei e alla sua famiglia. Orietta, che ci manda questo bel buongiorno. Oh, Maurizio, che è un po', ciao Maurizio, e ciao, e la, buongiorno, devo dire molto simpatico. Oh, dunque, vediamo un po', vedere sempre il doppio, il collo di Teresa, anche questa carina. Buongiorno, buon mercoledì, per essere felici non serve essere rinchi, sono le piccole cose rinchi, il cuore, quelle sono gratis. Giovanna, di Rovigo, la nonna, mi diceva sempre, vediamo un po' che diceva la nonna, la falsità, l'invidia e l'arroganza sono tre sorelle, figlie dell'ignoranza. Eccola qua, la famosa nonna, ecco la macchina da cuccire, caro zio. Oh, Desi e Alessandro, non ci vuole molto per fare di una giornata una bella giornata, ma sta un raggio di sole nel cuore. La meraviglia degli occhi e della testa, un sogno, buongiorno. Oh, viva la musica, poi questo è un anticipo di menù, posso dirle che avremo anche il Vitel, come è, caro zio? Esatto, è un po', la francese che fa un po' più figo, Vitel, come è. Allora, buon mercoledì, felice giornata, kiss da Monica e poi da San Donà, il nostro di Santa Udana di Pia, il nostro Terenzio, che salutiamo. Pronti, si parla per un nuovo giorno, spettiva giornata. Avedeo, eccolo qua, il magico Avedeo, detto con il cuore, anche un buongiorno diventa speciale. La nostra alba, il nostro abbraccio, buongiorno, felice mercoledì, viva la musica, poi abbiamo dato un pensiero per i miei, che vedremo dopo. E Giuseppe, cercando i due carrare, si parte con una nuova giornata, buongiorno, buon mercoledì. E Teresa da Caneva, buongiorno, buon mercoledì, ecco questo l'abbiamo visto prima. E buongiorno anche da Silvana, buon mercoledì a tutti il 28 ottobre. Ancora Sabrina, buongiorno. E Raffaella, buongiorno anche a chi oggi divide un po' del suo tempo con me, buon mercoledì. Grazie a Paola per questo pocket coffee, buongiorno e buon mercoledì, buona giornata. E Maria Luisa, prima che blocchino anche i cellulari, auguro a tutti buon Natale, felice anno nuovo. Non è male, non è male. Grazie Guido, mei tempi, sono felice di essere stata bambina prima che la tecnologia prendesse il sopravento. Ve lo ricordate, lo scalone, caro zio, il famoso scalone che si disegnava con la pietra, quella rossa che trovavi. Eccolo qua, grazie Guido. E poi Giuliana, più che un caffè serve un miracolo stamattina, buongiorno. E Giovanna, che belli i tempi, quell'unica cosa che conta era una risata, buongiorno, anche con questo buongiorno di buon mercoledì. Franca, buongiorno a tutti gli amici del mio profilo, oggi è mercoledì. Comunque svegliarsi, scattarti, freschi, rilassati, succede solo nella pubblicità, buon mercoledì a tutti. Per essere felici, vivi tutto ciò che ti emoziona e lascia andare ciò che ti condiziona. E ricordiamo Carla, il buongiorno, ecco, nel cuore, non potrà mai portarci via quello che teniamo nel nostro cuore. Buongiorno ai ricordi, se ti vedi le persone che andremo a questa vita, che nonostante tutto rimane un giorno più prezioso. Grazie, un applauso perché siete sempre straordinari da queste piccole frasi. Noi cerchiamo, magari, di pescare questa piccola riflessione della nostra giornata che fa sempre bene al cuore. E allora, caro zio, con Ottica Lux, con mio amico Andreone, che è pronta una promozione, domani ne parliamo. Io però adelantissimo perché così adesso abbiamo quella, sapete, dell'occhiale alla vista. Chi si farà un occhiale alla vista potrà averne un altro, anche di gradazione diversa per una persona della famiglia, a metà prezzo. Quindi attenzione perché è una cosa molto importante, sapete l'occhiale alla vista quanto è importante, quindi la visita è gratuita, Ottica Lux lo vediamo da questa immagine. Domani preparerò, naturalmente, una nuova slide che vi spiega bene questa cosa. Quindi vi ricordo, insomma, la visita gratuita che è sempre importantissima, per me è la cosa più importante. Poi è chiaro che i 100 euro di sconto, oppure addirittura andate con vostra moglie, voi vi fate l'occhiale alla vista, lei magari può scelsi un occhiale alla vista anche per lei, lo paga esattamente la metà. Ecco, quindi andiamo oltre i 100 euro di sconto. Quindi prenotate una vista gratuita, 049 86 42 034, dura poco questa promozione, ma approfittatele. Via Altichiero, ve l'ho detto, a Padova, di fronte alla chiesa, facilissimo arrivarci. C'è l'uscita sulla tangenziale di Padova che indica proprio Via Altichiero, è l'uscita 21A. Video del giorno con Ottica Lux, caro zio. Torqueda sorriso con una bella canzone, amore. Amore. Aspettiamo un attimo, anche l'amore fa aspettare. Amore messo. Pronti? Amore messo. Amore messo. Prego. Dolce ciò che sento, coi tuoi occhi che guardano i miei. Bramo ancora il tuo sorriso, lo cerco nelle foto di noi, vorrei gridar con rabbia, solamente che cosa è cambiato. Mentre sul mio petto, un cuore stregato, stregato dalla voglia che ho di averti, impazzito dalla voglia che ho di amarti, accecato dalla voglia di parlarti per tutta la vita. Amore. Immenso. Dimmi chi accadrà, non batte più il mio cuore se non torni qua, non brillano le luci della città, senza te io già lo sento, si spegne l'anima. In questo lungo inverno Alle spalle lascerò il mio passato Ma arriverà l'estate Per il mio cuore stregato Stregato dalla voglia che ho di averti Impazzito dalla voglia che ho di amarti Ha cercato dalla voglia di parlarti per tutta la vita Amore immenso dimmi che accadrà Non batte più il mio cuore se non torni qua Non brillano le luci della città Senza te io già lo sento Si spegne l'anima Amore immenso cosa resterà Senza te io già mi perdo In questa Immensità In 35 anni di passione studi come ottico optometrista Ho risolto molti casi Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente E consiglio la migliore qualità ed estetica Sia per le montature che per le lenti Progressive o ad alta definizione Vederci bene è importante E soddisfare le persone mi rende felice Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita Ottica Lux Invia il tigliero a Padova Bene bene Buon mezzogiorno spaccato caro zio Mezzogiorno di De fuero De fuero Allora il menù di Viva la Musica anche oggi Che poi è bello perché noi non è che sarai nel ristorante Trovi sempre le stesse cose Ogni giorno cambiamo caro zio Quindi lei non può lamentarsi Non può proprio lamentarsi Intanto darei il benvenuto perché per la prima volta ci scrive E anche se credo ci insegua Aggiungiamo posta a tavola Anche se dobbiamo stare in quattro pettavola Graziella da San Donato di Chiale caro zio Un abbraccio cara Graziella Che ci saluta e ti saluta E saluta il capitale Riccardo E ci ha mandato anche lei il suo buongiorno Che adesso vi mostro Con Scusate vediamo se riesco a aprirlo In modo un po' più visibile Eccolo qua con questo Bel gattino che si sta facendo la pausa Buon mercoledì Grazie Grazie mille Grazie di cuore naturalmente E poi ancora il buongiorno caro zio Ci arriva anche da In vive Roberto Buon mercoledì e buona giornata E anche Vediamo se il nostro computer ci permette Sì 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 Così Ah eccolo qua Da Mario e Vanna Siamo sempre a San Donato di Piave caro zio Che ci dice le comarie al mattino Eccolo qua Non è male Non è male Non fa proprio no Allora tra poco vedremo i festeggiati Avremo il menu di Viva la musica Vedremo se qualcuno di voi ha indovinato il colmo Per l'ottico Lo ricordo Quattro parole Con noi capitano Riccardo oggi E Giancarlo La Santa Monica Bene Sopra il filo del tramonto Ma che il sole va da giù Ti ritrovo qui accanto a me Guardo verso l'orizzonte Mi spingo un po' più in là Come il vento che in tuoi sogni porta dentro me L'emozione di una notte ormai fantastica Il profumo dei capelli su me Accarezzano la pelle Come un soffio dentro al vento d'amor Ai Me duele il corazón E di questa canzone arde un fuego di passione Ai Me duele il corazón Carizzi questa emozione Non tengo alcuna indecision Ai me duele il corazón L'esigenza di sentire il tuo corpo Come un sogno Come un sogno la tua pelle su me La mia voce è quell'abbraccio Che ti stringe sempre più forte a me Ai Me duele il corazón E di questa canzone arde un fuego di passione Ai Me duele il corazón Carizzi questa emozione Non tengo alcuna indecision Ai Me duele il corazón Mi duele il corazón Mi duele il corazón Mi duele il corazón E di questa canzone arde un fuego di passione Mi duele il corazón Mi duele il corazón Carizzi questa emozione Non tengo alcuna indecision Ai me duele il corazón Mi duele il corazón Mi duele il corazón Mi duele il corazón Subito andiamo a vedere i festeggiati di oggi E poi avremo l'opportunità Di anche accompagnarci naturalmente Con tante altre cose carine Beh intanto facciamo gli auguri Ho chiesto se mi mandano una foto Perché sono anche di cari amici di Viva la Musica Oggi fa 50 anni Alessandro, caro zio Auguroni da Desi con tanto amore Ecco qua dice oggi il mio corazón Il mio amore Noi se vedo che non ha letto il mio messaggio Spero che prima della fine ci mandi la foto Così lo festeggiamo bene E adesso lo abbiamo già anticipato L'anniversario 59 anni di miei genitori Eccoci qua Mia mamma Antonietta con Claudio Quel giorno, il 59 anni fa 28 ottobre E oggi chiaramente che li vedo E ecco qua con un bel bacio Un applauso, un applausone Applausi, auguri Da tutta la famiglia Naturalmente Per tutte le persone che li vogliono bene Li conoscono E anche Alma che gli ha mandato Questo buon anniversario Claudio Antonietta Grazie Alma E poi auguroni Di buon compleanno La nostra Elisa Baron Di Campoloco Maggiore Auguroni dalla mamma Giulia Gli zii, cugini e amici Soprattutto Geli Panizzolo Sua amica sorella Ecco, cioè un'amica proprio del cuore Auguroni, auguroni Veramente E poi caro zio Le anticipo Basta, basta così Che se no poi le viene fame Allora Prego Andiamo con una bella canzone Caro zio Dedicata all'anniversario Siamo un po' in conflitto di interessi Ma una canzone che piace anche a voi L'adagio Mi sembra doveroso L'adagio di Abbinoli Della nostra Sonia Quabana Eccola Per voi babbo Per la mamma Per insomma Tutti gli amici Auguroni Della grande musica Auguroni Prego Ma sento una voce che nel vento parla di te Quest'anima senza cuore aspetta a te adagio Le notti senza te I sogni senza stelle Immagini del tuo vi Che passano all'improvviso Mi fanno sperare ancora Che ti troverò Adagio Chiudo gli occhi e vedo te Trovo il cammino che mi porta via dall'agonia Sento parte Questa musica Che ho inventato per te Se sai come trovarmi Se sai dove cercarmi Abbracciami Abbracciami con la mente Io sola mi sembra spento Accendi il tuo nome in cielo Dimmi che ci sei Quello che vorrei Vivere in te Io sola mi sembra spento E no-to-tac���year-mi E no-to-tacая No-to-tacая Abbracciami con la mente Smarrita sezzati te Dimmi che sei E ci crederò Musica sui Padre Joe Soria! Grande, grazie naturalmente anche alle persone Che mi avete mandato gli auguri Grazie a Giovanna Che dice che assomiglia al mio papo Che sarà contento Che si dice mamma, certo, papà E quindi insomma così lo rincuoriamo Tranquillamente Grazie di cuore E anche a, se non sbaglio Diamo un po', scusatemi Veloce, veloce, veloce Se riesco Dunque, dunque, Giancarlo, Silvana Grazie anche Luis, grazie mille Gentilissimi Allora, caro zio Tra poco avremo il menù di Viva la Musica Ma prima invece Perché se vogliamo masticare bene tutto Ci vuole La salute della nostra bocca Sia perfetta E anche un bel sorriso Che il sorriso è veramente Una delle cose più importanti E se ci sentiamo tranquilli con la bocca Noi siamo sorridenti a prescindere Perciò, politica Io sorrido a Borgo Ricco Padova Ripeto sempre Amiche e amici Guardate che non c'è Capisco questo momento Che uno dice Ma si aspetta Guardate che loro Cioè queste immagini Mascherine I gene I guanti Non sono state fatte adesso Sono state fatte prima Che succedesse il Covid Quindi Loro hanno ancora di più adesso Già ce l'avevano prima Quando nessuno usa le mascherine Ma loro le usavano Se da sempre Adesso c'è ancora maggiore attenzione Quindi andate con la massima serenità Perché è tutto sotto controllo Una clinica Ha dei protocolli Che sono severissimi Ed è per questo Che io vi dico Andate Se qualsiasi problema Non aspettate Perché ve lo dico Perché loro Hanno l'opportunità Veramente Di darvi il massimo Della qualità E farvi risparmiare So che molti di voi Sono andati Vi ringrazio Ma c'è Secondo me Ancora margine Per molti Che vogliono trovare Una realtà Che sia bella Organizzata Grande Che abbia addirittura Pensate a noi Il loro laboratorio Non è che Sapete le protesi Le capsule Chiamatele come volete Ecco Non devono farle fare fuori Hanno là Il loro laboratorio In un'altra parte In un'altra parte Grandissimo Gigantesco Addirittura Con le stampanti 3D E poi là Sono uno staff Noi qui vediamo Solo il direttore Andrea Rosso Il dottor Andrea Rosso Che saluto Che si è prestato Lui Per accompagnarci A fare le riprese Ma ricordo che sono Più di 20 unità Tra paramedici e medici Per la curativa L'igiene La conservativa E anche l'implantologia Gli impianti Poi le dentiere Tutto quello che volete Con un risparmio importantissimo Quindi approfittatele Non veramente Andate a farvi un preventivo Senza problemi 049 933 5294 E poi vedrete Se vi ho detto La verità Ditemi che siete Di viva la musica Perché C'è un piccolo trattamento Ancora più Di convenienza Allora Video con Il nostro Clinica Io sorrido Borgorico Padova Facilissimo a trovarla Vicino alla tangenziale Che porta a Castelfranco Comodissima E' veramente comodo Mauro Levelli Eccolo per voi Perdonami amore E' stata una breve sciocchezza Perdonami amore Guarisce con una carezza Io amo te Solo te E tu lo capirai Se ti abbraccerò Perdonami amore Perdonami amore Anche se ti senti delusa Perdonami amore Il tempo Perdonami amore 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 Il passato sai non conta, devi credermi, sarà bellissimo, lo vedi che ora sono qua, perdonami amor. Perdonami amore, perdonami amore, sarà mai più. Perdonami amore, perdonami amore. 5.000 casi risolti, 20 unità operative, 8 ambulatori e una sala chirurgica. A Borgo Ricco, Padova, in via Marconi. Clinica Io Sorrido, dà valori al tuo sorriso. Pardelle con creme di zucca e salamella, spezzatino di manzo con zucca cubettata, funghi, polenta al cucchiaio, patate e rosmarino, dolce della casa, vino, spumante e caffè. 25 euro con Enrico Marchiante che sarà l'accompagnatore vocale, musicale del pomeriggio. Tutta nella piena sicurezza, senza problemi. Allora, caro zio, facciamo vedere un po', velocissimamente. Gli auguri di Silvana ancora per i miei, l'anniversario è un'occasione per celebrare le gioie di oggi e di ieri e le speranze di domani. Auguroni ancora adese Alessandro Di Mira e poi vedremo i festeggiati. Mentre è pronto il menù di... Ah, grazie anche a Ivo che ci manda il suo buongiorno. Grazie Ivo ed è pronto il menù di Viva la Musica. Prego regia. Molto bene, si va, si va con il primo di Giancarla. Eccolo qua, penne con piselli. Mi pare piselli molto buone, a me piace un sacco il condimento dei piselli. Per riscaldarsi un po' più lo stomaco invece, tortellini in brodo con la nostra Giovanna di Duecarrare. Abbiamo adesso penne con piselli, anche qui, e abbiamo frittata, broccoletti e filocchi. Grazie ancora. Abbiamo il vitello torné, o vitello tornato come preferite, per il nostro zio Rosbiff. Oppure, caro zio, eccolo qua, Iole, il cotechino, che dice per il colmo visurale, la vista col metro, abbiamo già detto, pure il cotechino, non male. E la nostra Monica, che ci regala un tagliere di affettati misti e formaggi, addirittura, caro zio, con la mostarda. Ecco, è buona, guardi, anche questo lo so che lei piace, il cotechino, è musica. Eccolo qua, dolci per finire, un applauso, invenuti, viva la musica, anche oggi, poi questo è il 15 novembre, in Gabbara, la tradizionale festa, la tradizionale festa del bambino. Una canzone che parte... Come al resto non è arrivato niente. Come no, lei era distratto, era distratto. No, no, era distratto. La nostra, salutiamo la nostra Giuseppina, che saluta in modo particolare i suoi angeli, e anche il papà Tarcidio con tanti auguri, la pronta con ragione, la prossima canzone sarà tutta per me. E tra poco festeggeremo anche il nostro Carlo a Di Mezzo Corona, siamo tutti festeggiati, prego. Per te che sogni un mondo nuovo, per te che sei rimasto solo, per chi è caduto e si è rialzato, per te che il cuore è innamorato, per te che stringi la sua mano, fra poco partirai lontano. Tutta una vita sembra ieri, il primo bacio e quei pensieri, io canto e sono un sognatore, e credo ancora nell'amore. Io canto e non mi stancherò, per un sorriso canterò, perché ho la musica nell'anima, io canto a tutti voi. Canto di gioia e canterò, per un sorriso canterò, col sole o con la pioggia, canto e canterò, per un sorriso canterò. Per te che guardi ancora il cielo, che sai apprezzare chi è sincero, per chi una rosa ti ha donato, per chi il dolore ha superato. Per te che guardi quella foto, i vecchi amici e quella moto, e la casina di campagna, e la chiesetta di montagna, io canto e sono un sognatore, e credo ancora nell'amore. Io canto e non mi stancherò, per un sorriso canterò, perché ho la musica nell'anima, io canto a tutti voi. Canto di gioia e canterò, per un sorriso canterò, col sole o con la pioggia, canto e canterò, per un sorriso canterò, col sole o con la pioggia, canto e canterò, con un sorriso. Canto di gioia e canterò, per un sorriso canterò, col sole o con la pioggia, canto e canterò, per un sorriso canto e canterò, per un sorriso canterò, perché ho la musica nell'anima, io canto a tutti voi. Marco, è questa notte che vi mette un sacco di allegria, prego zio, prima di festeggiare. Giuseppina, i suoi angeli, anche il papà, Tarcisi, con una pronta guarigione, poi arriva un bel saluto e gli auguri dal nostro Amedeo, per i tuoi genitori, Luisa, Luciano, Padella, tanti tanti auguri per la parte sua. Grazie, un abbraccio amici, allora auguroni al nostro Alessandro, dalla moglie Dezi, che la ama tantissimo, 50 anni, eccoci qua velocemente, auguroni a, grazie a Natalina, a 20 anni scinautico, a 30 anni scinortico, a 40 sciatica, a 50 sciancato, a 60 scinunito. Non è male, vai, ci facciamo una risata, ho messo una birra in camera mia, un prosecco in cucino, ma per lo sprizzo nel soggiorno, stasera farò il giro dei locali. Auguri ancora ai miei genitori, 59 anni di matrimonio, auguroni Claudio Antonietta, grazie a Anna per questo pensiero, domani la festeggiamo. Auguroni al nostro Carlo, 86 anni da tua figlia Anna Alan, naturalmente, che ti odio tanto bene, eccolo qua, ma è il primo piano, e qui lo vediamo oggi, caro zio, con spaghetti a ragù, pomodoro e rape rosse in insalata. Auguroni e Elisa Baroni, campologo maggiore, dalla mamma Giulie, zii, cugini e amici, e soprattutto da Jenny Panizzola, amica e sorella, e poi tutti i menù che abbiamo visto. Grazie a Capitano Riccardo che è stato con noi oggi, grazie zio. Grazie per i nostri consigliati a Oste, butta il bicchiere, e salutiamo la Livia, Marcia, e la nostra Maria Di Bargà, che è quella che ha fatto. Grazie, vi aspettiamo stasera, tra poco il governatore sul TG Veneto del News24, viva la musica! Se a volte la vita ti lascia da solo, hai paura di tutto, e non credi a nessuno, Quando stai male, si può solo sbagliare, credi che un bicchiere ti possa ridare, la pace nel cuore. Oste non serve bere, se un amore è finito, il domani potrà darmi felicità, oggi io l'ho capito. Oste questa mia vita vale più di un amore, e non voglio soffrire, non voglio morire, dentro un bicchiere. Oste questa mia vita vale più di un amore, e non voglio soffrire, non voglio morire, dentro un bicchiere. E non voglio soffrire, non voglio morire, oste butto il bicchiere.